Grande aspettative, sicuramente che dopo 23 anni abbiamo riconquistato una categoria importantissima, un campionato straordinario ma allo stesso tempo difficile. Stiamo cercando di allestire una squadra che ci possa permettere di arrivare all'obiettivo della salvezza in maniera da consolidare la Serie B, sarebbe importantissimo per noi. Stiamo cercando per quei giocatori che abbiano requisiti per far sì che la nostra squadra dispita un buon campionato. Adesso ci dirai tutto anche sui nomi che la Spalla sta cercando, tanto sta cercando anche un portiere, si è parlato molto di aresti del Pescara. È un nominativo cui seguiamo, abbiamo diverse trattative in corso, in questo momento non abbiamo concluso con niente, però sono vinto da qui ai prossimi giorni, prima di ritiro e concluderemo con diversi giocatori perché bisogna rinforzare questo gruppo, che ha fatto benissimo, però bisogna mettere nella squadra quei giocatori che ci possono permettere di crescere sotto l'aspetto della tecnica, dell'esperienza e anche sotto l'aspetto morale. C'è grande curiosità anche intorno all'attacco, vari nomi sono stati accostati al reparto avanzato della Spalla, si è parlato di Catellani, si parla di Antenucci. Sarebbero due attaccanti eccezionali, mi auguro che possa venire alla Spalla, però insomma non so che non è semplice, però insomma cercheremo di, come dicevo prima, di allestire una squadra competitiva e ci possa permettere di arrivare all'obiettivo finale. Sicuramente questi sono nomi che farebbero piacere per ogni allenatore, ma anche e soprattutto per la società Spalla, poter avere a disposizione, non sarà semplice, però cercheremo di trovare quei nominativi che, come dicevo prima, ci possano fare un ulteriore salto di qualità. Stai aspettando con emozione, con trepidazione, la sfida con Cosmi, che è stato ed è uno dei tuoi tecnici di riferimento, ti ha allenato e insomma non hai mai fatto mistero che è uno degli allenatori tra i tuoi preferiti? Sicuramente Sersi ha fatto una grande carriera, quest'anno ha confermato tutto quello di buono, ha fatto in passato, facendo un campionato straordinario a Trapani. Purtroppo è andata male la finale, però questo non toglie l'ottimo lavoro che ha fatto. Sicuramente sarà una bella sfida, è stato mio allenatore, io sono stato un suo giocatore, quindi abbiamo vinto un campionato insieme ad Arezzo e cercheremo magari così di far bene anche contro un allenatore bravo come lui. Tu naturalmente sei un allenatore particolarmente bravo anche con i giovani, lo hai dimostrato nel corso degli anni quando hai allenato nei vari settori giovanili, quindi stai avendo anche un occhio di riguardo per i giovani, per la tua Spalla, confermo ristando che c'è bisogno anche di giocatori esperti per una categoria che comunque ha la possibilità di mettere in mostra, sì giovani, ma poi comunque l'esperienza conta? Assolutamente sì, noi anche quest'anno avevamo due o tre giovani importanti, quindi anche l'anno prossimo stiamo vagliando diversi nominativi, perché nelle primavere, non solo nelle primavere, ci sono dei giovani di grande prospettiva e cercheremo di portarli alla corte della Spalla perché, come dicevi te, oltre all'esperienza ci vuole anche un po' di gioventù, ci vuole anche entusiasmo sotto tutti i punti di vista per cercare di affrontare questo campionato, ripeto, bellissimo ma allo stesso tempo difficile, quindi bisognerà fare una rosa completa in tutto e per tutto. A proposito di giovani che hai allenato in passato, in particolare la Fiorentina, Bernardeschi, ti aspettavi che agli europei potesse incidere maggiormente nella partita contro l'Irlanda oppure secondo te è stato un po' bloccato da problemi magari legati all'eccessiva tensione? Credo, insomma, era l'esordio, non con una competizione così importante, purtroppo non ha fatto non bene solo lui, ma un po' tutta la squadra, quindi magari in quel contesto non è riuscito a far vedere quelle che sono effettivamente le sue validità. Io credo, insomma, che abbia un grande avvenire e questo gli possa servire l'esperienza, magari si sarà riamato in causa per cercare di disputare un bel europeo e mi auguro che già da domani possano andare avanti alla Spagna. Un altro giovane che è allenato nella primavera della Fiorentina, Babacarra, si parla del suo possibile trasferimento al Sassuolo, potrebbe essere la destinazione giusta per questo giocatore per mettersi definitivamente in mostra dopo che alla Fiorentina è stato aspettato tanto però non è riuscito poi a dare il meglio di se stesso? Ma questa cosa mi dispiace perché insomma l'avrei visto volentieri centravanti alla Fiorentina però purtroppo quest'anno per vari problemati non è riuscito a esprimersi nei migliori modi, credo che il Sassuolo sia una squadra forte che sicuramente ha degli obiettivi importanti e possa essere una piazza buona per far sì che lui possa davvero esplodere. L'ultima domanda a proposito dei giovani, Capezzi è un altro giocatore di scuola fiorentina che si affaccia alla Serie A, resterà con ogni probabilità al Crotone, è un giocatore destinato ad arrivare a quali traguardi secondo te? Mi auguro che possa tornare alla Fiorentina da giocatore importante, sicuramente in questo momento si è guadagnato la promozione con il Crotone, so che lo vorrebbero tenere e credo abbia la possibilità di giocare anche in maniera più continua al Crotone e magari si possa fermare lì per poi tornare un giorno alla Fiorentina.